benvenuti benvenuti cari amici siamo ubiti questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere bottone like iscrivete canale e per cui iniziamo subito come sempre dalla crypto total market cap eccola qua abbiamo raggiunto 1.87 trillions pensate ma nella giornata proprio di oggi siamo arrivati addirittura a 1.93 trillions erano giorni che vi dicevo che secondo me andremo a colpire i 2 trillions non manca molto e in questo momento siamo in volta mai sulla total market cap come vediamo siamo in trend ascendente guardate qua chiaramente in trend ascendente abbiamo questo punto fermo a 1.5 trillions che ci fa sostanzialmente al supporto e quindi per il momento non vedo dei problemi sulle altcoin e su bitcoin andiamoci quindi a vedere la dominance che sta calando i bitcoin siamo addirittura arrivati a 57.90 pensate quindi siamo andati sotto ai 60 e quindi ora potenzialmente si prospetta una appunto nuova prospettiva che sono quella dei 50 punti andremo a vedere in quanto tempo se la raggiungeremo naturalmente nei prossimi giorni ma in questo momento naturalmente il trend è chiaramente discendente andiamo a vedere bitcoin ottimo vorrei soffermarmi in particolare qui perché le trend line che io avevo tracciato erano proprio questo qua avevo ipotizzato un movimento del genere addirittura abbiamo fatto un movimento con una 2 una doppia candela rialzo anche una terza successivamente qui quello che mi prospetta è che potremmo anche tornare ok anche a 55 mila potenzialmente però per poi successivamente andare su ok lo potrei anche aspettare un movimento del genere non farebbe sicuramente male perché siamo chiaramente in treno realzista seconda ipotesi è che magari anche prendiamo i 56 57 abbiamo la forza per ritestare i 60 e successivamente ripassarli il fatto che bitcoin ora scarichi un pochino ok dati da eventuali short e vari comunque trading fa bene ok quindi solo scarico un pochino e poi prendiamo a forza ok ma neanche dei 57 ma anche dei 55 per andare su quindi passare questi 60 mila sarebbe ottimo anche perché dobbiamo ipotizzare che prima partivamo da 51 mila siamo arrivati praticamente 60 mila quindi ripartire 55 mila per andare su non sarebbe affatto malvagio andiamo a vedere tiro molto molto bene vi ho spesso parlato di tiro e vi ho detto anche se guardate i video precedenti secondo me tiro un qui a 1000 dollari era regalato infatti oggi nemmeno due settimane dopo stiamo 2000 quindi bene la mia prospettiva sui team è fortemente bullish ok questa è la rotta la trend line ascendente ora che cosa ha fatto andremo a vedere se effettivamente questa trend line ascendente ti fa adesso è essa da supporto ok quindi potenzialmente secondo me addirittura potremo vedere la prossima settimana anche i 2500 ok se andiamo così questa è un po' la mia idea vedremo che cos'è succederà naturalmente non sono nei consigli finanziari né di trading ma me e ti mi piace molto 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 il petrolio digitale andiamo a vedere polkadot altro non volta mai guardatelo qua il precedente era di 42 su polkadot abbiamo addirittura raggiunto i 46 coin che mi piace tantissimo e secondo me polkadot nel 2021 è destinata a fare grandi cose ok questa è la mia idea andiamo a vedere stellar stellar sono fortemente bullish secondo me ve lo dico come sempre sono nei consigli finanziari né di trading però per me stellar è regalata questi prezzi per oggi naturalmente è una coin ok ad alta capitalizzazione quindi ci vorrà un po di tempo però come sempre stellar tende a scaricare abbiamo visto più volte anche per i nuovi guardate qui stellar tende a fare questo movimento e secondo me ora il movimento che potrebbe andare fare stellar è sostanzialmente di rialzo verso i 60 anche passarli e successivamente avere i 60 come supporto vedremo cosa succederà ci vorrà un po di tempo però secondo me è più che fattibile su stellar guardate qui un movimento due movimenti tre movimenti ora secondo me il prossimo movimento sarà sempre rialzo quindi una cosa simile a queste qui a queste precedenti di movimento simile per poi scaricare magari arrivare anche 80 centesimi scaricare e tornare su andremo a vedere che cosa succederà ne ho adesso andiamo a vederci sand tende coin che mi piace tantissimo oggi volevo portarvi anche un nft che secondo me è molto interessante cioè sand il primo nft che trovate in classifica uno dei primi il movimento che mi aspetto su sand e di questo tipo quindi un eventuale scarico anche fino a 0 64 0 60 per poi ripartire ok questa è la mia idea sul sand e poi volevo portare un'altra moneta molto importante a defi che è chain link chain link come vediamo in questo momento trend fortemente ascendente abbiamo un'olta mai a 37 secondo me questa è un'ottima trend line un ottimo corridoio vedremo se effettivamente attraverso questo corridoio chain link potrebbe andare a superare quelli che sono i 37 dollari ed infine andiamo a vedere rif come vedete io su rif faccio tante trend line però in sostanza concentratevi su questa ora rif rimane in trend ascendente come lo vediamo aveva preso un'olta mai a 0 0 6 praticamente e secondo me rif rimane fortemente bullish vedremo che cosa succederà le prossime settimane però sono fortemente fiduciose per questo video ti ricordo di distruggere il bottone like iscriviti al canale e naturalmente iscriviti anche al gruppo telegram ciao a tutti